ciao carissima vediamo cos'è immersiva no immersiva non mi piace cos'è immersiva niente lascio così allora come stiamo? ciao cara mi metti allegria sembra una buona cosa ma direi che ottima non buona un pezzo è fatto fammi alzare il volume che qua non sento niente non senti nulla non sento non vedo c'è ormai dopo i 50 c'è ma sì ti dona quel paio d'occhiali e il tuo il taglio il colore il taglio ti dona un casino allora questi occhiali purtroppo sono quelli della farmacia 990 io ho cercato siccome devo farmi invece dei progressivi perché io adesso non vedo manco più da lontano un casino questo fatto della retina sto cercando come una matta un paio di occhiali decenti decenti vuol dire che durino esattamente così ma non da 9 euro che dopo un po' le stanghette ciao e quindi niente spero di trovarli e i capelli niente sono bianchi e sono stufata di io alla periodi mi tingo poi dopo tre minuti e mezzo già mi sono stufata di essere tinta perché vede la ricrescita allora sopporto mi ritingo un altro un paio di volte poi basta taglio tutto infatti così è stato ti sei preparata no perché non mi hai detto nulla ma non ti sei letta le domandine che domandine no dove le hai portate allora andiamo così in diretta ma sì io mando una traccia così le persone di solito non c'hanno il oh mio dio adesso che cosa dico cosa mi chiederà e quindi ma no ma andiamo a braccio andiamo a canovaccio allora andiamo a canovaccio allora raccontaci un po' se ti va a chi sei e cosa fai allora io sono una psicologa di Ferrara mi sono iscritta all'albo da poco e da circa un annetto no un paio d'anni direi e lavoro prevalentemente sull'online mi piace l'online e ho creato questo percorso padrona della tua vita in modo da riuscire ad aiutare le persone ad essere più consapevoli e quindi da una parte ma anche più a prendere in mano il volante della della propria esistenza direi che e si tratta di persone lo lo possiamo dire persone che hanno a che fare con l'ansia fondamentalmente sì sì assolutamente sì perché sai diciamo di per non essere padroni della propria vita sono molteplici sì però questo è specifico questo è specifico ma in particolar modo per le persone che lavorano o ma anche per questioni di vita privata per esempio entrambi sia per questioni di vita privata che per questioni lavorative cioè possono essere molteplici le motivazioni per cui una persona va in ansia il rapporto con i colleghi che magari non è così fluido il rapporto con il capo che ogni tanto con cui ogni tanto ci si ci si scontra possono essere incomprensioni in casa nelle relazioni con con il proprio compagno la propria compagna diciamo che è a 360 gradi magari l'ansia perché non si sa non si riesce da raggiungere un obiettivo che ci si è prefissati possono essere molteplici le motivazioni ansia immanente sì proprio diciamo che viviamo in un mondo che è condito di ansia secondo me come l'olio sulla pasta o sull'insalata vediamola un po' come diciamo che siamo un po' immersi nell'ansia poi ci sono quelli a cui proprio l'ansia diciamo tra virgolette invalida un po' la vita e quelli che niente sottoprodotto inevitabile della vita moderna e con quello un po' ci si convive però invece ci sono persone non so bisogna parlare a conviverci no? e anche quelli che non parlano in pubblico quelli che non chiedono un appuntamento sì vabbè bene è vero e noi abbiamo fatto insieme una one long session queste robe immersive da tre ore in cui vi sposto come un ananas tu ormai mi sei rivolta a me perché avevo bisogno avevo bisogno di una persona che mi accompagnasse in modo immersivo e mi facesse vedere gli aspetti del mio business che non funzionavano per bene c'era qualcosa nel meccanismo che non fluiva non era fluido e adesso ho capito che cosa su che cosa focalizzarmi e un lavoro che sto facendo è un diciamo che hai dato il là hai aperto è un lavoro che sto portando avanti eh certo sì perché sì in più tutte le volte che riguardo alla nostra OLS è un è un apprendere qualcosa di nuovo sì allora lo dico per chi ci ascolta la one long session è una roba di tre ore tre ore e mezzo poi non stiamo a guardare i minuti ne manco le mezz'ore e di cui io che io registro e di cui mando appunto registrazione alle persone perché e glielo dico prima perché così uno sta bello rilassato durante la sessione e se la gode pienamente può anche non prendere appunti e poi col tempo la OLS è un po' come il piccolo principe ogni volta che leggi il libro ci trovi una roba nuova per cui non sei la prima che mi dice ogni volta che me la riguardo mi concentro vengo insomma mi focalizzo vengo colpita da un punto diverso o magari dallo stesso punto che però avendo tu nel frattempo fatto un'evoluzione o comunque cambiato qualcosa lo vedi e lo leggi in un modo diverso ci vedi altro tu avevi già fatto dei percorsi sì avevo già fatto dei percorsi abbastanza impegnativi anche molto molto strutturati mi avevano dato già qualche idea qualche qualche input su cosa lavorare su cosa concentrarmi però secondo me un percorso di gruppo a volte perde perde sì proprio perdi dei pezzi per strada e si ha secondo me la necessità di avere qualcuno che ti dica guarda che hai perso un pezzo raccoglilo perché quello è importante e fondamentale penso che sia il lavoro di gruppo che il lavoro in individuale vanno debbano andare di pari passo cioè una persona dedicata che ti accompagni sì ne parlavo questa mattina con una collega cliente collega amica ormai e dicevamo appunto che ci sono forse anche un post ci sono delle persone a cui va bene leggere il libro e ci sono altre persone che vogliono confrontarsi con l'autore io sono una di queste perché che è per mille motivi per affondire per 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 cogliere delle sfumature che leggendo il libro tu non cogli a volte perché banalmente non capisci quello che c'è scritto nel saggio non stiamo parlando di romanzi magari parliamo di un saggio e quindi tu dici che quello che è stato diverso è stato proprio quello di avere una persona dedicata che si emulgesse con te sì assolutamente ok e che cosa diciamo che cosa è cambiato cosa hai ottenuto cosa ti aspettavi intanto e cosa invece o anzi hai ottenuto da questa cosa allora aspettative non 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 avevo aspettative specifiche ero curiosa ero aperta a qualsiasi cosa che mi potesse tu mi potessi dare e anche perché eh avevo letto già dei post e quindi avevo intuito che c'era qualcosa di che mi risuonava c'era qualcosa che mi risuonava leggendoli eh che cosa ho ottenuto eh ho ottenuto eh una minore mi sono un po' destrutturata una maggiore fluidità o quantomeno cerco questo è quello a cui io aspiro una maggiore fluidità nello scrivere e nel ehm riportare anche le esperienze di pazienti che ovviamente sono legge il nome ma in realtà è un nome fittizio perché per privacy assolutamente eh non posso non posso non posso rivelare l'identità e non lo fare neanche per cui o sono nomi fittizi oppure nomi lettere puntate e quindi c'è una maggiore come dire una maggiore semplicità naturalezza che poi è tutto fuorché naturale allora sì e anche di questo ne parlavamo stamattina sto sempre a parlare con clienti e con le ma va bene perché proprio stamattina è venuta fuori una cosa pazzesca con un appunto cliente collega mita la quale mi ha detto cavolo io questa cosa che ho capito stamattina è esattamente quello che io avevo in mente tre anni fa ma seguendo dei corsi dei percorsi di marketing vendita whatever quello che è mi sono talmente allontanata da questa cosa riempiendomi proprio di sovrastrutture che questa cosa per cosa intendiamo con chi voglio lavorare molto banale certo famosa ricchia che mi sono talmente allontanata da quello che io volevo fare perché diciamocelo c'è un pubblico per ogni cosa quindi non è che se tu una cosa vuoi fare quella cosa quella cosa no cioè sì ci sono delle cose che proprio io voglio aiutare le persone ma non lo so a misurare occhio le mattonelle quando entri sei ok poverai quelle due persone nel mondo però tolte questi casi estremi alla fine c'è un pubblico per ogni cosa quindi noi possiamo lavorare veramente su ogni cosa poi ci sono dei pubblici che magari sono più remunerativi meno remunerativi ma è tutto subordinato alla sostenibilità cioè è tutto subordinato al fatto che tu quella roba la voglia e la possa fare per molto tempo ok mi sono scelta una nicchia che non spende 5.000 euro l'ora ok però se mi scelgo una nicchia che spende 5.000 euro l'ora duro tre giorni e quindi poi non posso andare avanti quindi sostenibilità è proprio la parola e quindi diceva mi sono talmente riempita di sovrastrutture che non ci stavo capendo più niente e ci ho messo lo stesso tempo cioè da sola lo stesso tempo che mi c'è voluto per per crearle queste sovrastrutture un po' quando uno prende 20 chili no prendi 20 chili poi teni la tua testa li vuoi perdere in tre giorni invece magari se li hai presi in tre anni ti ci vorranno tre anni più o meno e poi ha lavorato con me lei ha fatto un percorso in realtà e in questo percorso abbiamo veramente durato fatica come si dice a lutta per togliere tutta questa roba poi nel momento in cui tutta questa roba si è dipanata finalmente c'è stata l'illuminazione e uno dice ma cacchio ma io ero lì già tutto tempo fa questo può dire che a volte bisognerebbe anche imbroccare l'approccio giusto per non passare uno due tre anni o anche dei mesi a costruire come quando sali appoggi la scala arrivi in cima la scala e poi quando si è arriva si è accorto che l'hai appoggiata sul muro sbagliato ok senti ma non hai tipo timori resistenze dubbi riguardo a cosa cosa strana che dura solo tre ore chissà che cosa può combinare in tre ore lo so una curiosità mia non lo chiedo un modo di guardare e di cercare diverso perché come dicevi tu si fa tanto presto a strutturarsi ok presto e relativamente presto ma secondo me ci si impiega il triplo di tempo a destrutturarsi si e quindi a mollare poi tutte quelle zavorre che appesantiscono e può essere un discorso traslato in tutti gli ambiti della nostra vita infatti nella mia immagine del profilo c'è appunto la mongolfiera che a me piace tantissimo che ti dà più idea di leggerezza di leggerezza si che non è superficialità che non è da confondere con la superficialità no no assolutamente è una grandissima risorsa la leggerezza riuscire a prendere con leggerezza certi certi momenti della propria vita o comunque riuscire a staccarsi un attimo è quel distacco dal riuscire a distaccarsi da certi da certi argomenti da certi da certi momenti e ritrovare un attimo quella lucidità e quell'equilibrio è è tanta è tanta roba sì che poi a volte a volte basterebbe anche cioè sarebbe già un grande risultato non appesantire no diceva io non è che proprio ambisco alleggerire a farmi tante risate però magari non metterci il carico sì che cosa fa anche l'ironia eh anche l'ironia l'ironia è l'ironia è la mia arma di sopravvivenza io senza l'ironia ma io ho un passato non so se te l'ho mai detto l'ho scritto forse qualche volta ho un passato ho passato perché non lo non esercito più come terapista della risata sì per cui io sta questa roba è stata il mio pane per diversi anni e ho anche avuto a che fare con persone che avevano delle situazioni importanti ok senti che cosa diciamo cosa ti è piaciuto di come abbiamo lavorato così che che pensi che non lo so che possa essere connotante caratterizzante rispetto ad altre esperienze eh sono diverse cose innanzitutto la modalità con cui tu approcci e già questo è non è non è un one down è un one up ma è un ok so che sono competente però mi metto al tuo livello e ti aiuto quindi si è simmetrici e la cosa è estremamente gradevole e stimolante perché finalmente puoi parlare con qualcuno che dice cioè che ti capisce con cui puoi dire guarda non ho capito niente come si fa questa cosa proprio poi questa è come approcci la tua disponibilità anche fuori della della one long session e perché ho visto che sei sempre disponibile assolutamente e questo secondo me rientra nel rapporto uno a uno nel rapporto uno a uno l'altro è la modalità con cui tu spieghi le cose molto semplice che però è facilmente spendibile acquisibile cioè è illuminante tra volte è illuminante e dici ma caspita ma è proprio quello non è altro ti fa molto piacere cioè non è quella roba astrusa che pensavo fosse invece è proprio cioè è lampante un altro mio collega cliente amico dice pane salame esattamente pane salame riesco a spiegare in modo semplice delle cose delle cose diciamo complesse ma questo è anche è anche merito delle ripetizioni che ho fatto di matematica a delle bestie matematiche del classico che a trovare una quadra capito per questi coracci a cui della matematica non fregava niente mi sono dovuta inventare delle cose posso capire poverini allora sulla disponibilità ci pensavo proprio stamattina tutto oggi eh tutto oggi concentrato oggi concentrato questo fatto della disponibilità la trovo veramente una cosa cruciale perché una delle resistenze a intraprendere un percorso qualunque un percorso di apprendimento di trasformazione qualunque è ok mi guardo sto videocorso oppure faccio questa sessione di gruppo la prossima è programmata fra due settimane ma se io mi imbarco in questa cosa metti che in questo percorso niente devo organizzo una masterclass se mentre la organizzo mi vengono in mente delle domande o dei dubbi che nella sessione io non avevo perché non lo sapevo che potevo avere potevo incontrare una certa difficoltà o quella cosa non mi è venuta in mente no? come quando vai a parlare col medico sì 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 hai capito tutto poi esci cioè devo chiedere questo questo e questo cosa succede che quando tu anche se c'è un gruppo facebook o whatsapp di supporto in cui tu puoi scrivere una domanda e sperare che qualcuno ti risponda eccetera eccetera è diverso proprio diversa la sensazione che hai quando invece dici ok parto con sta cosa se c'è un intoppo io so che posso simbolicamente alzare la cornetta ogni tanto anche alzare la cornetta ma mandare un messaggio a Elisa che Elisa in niente mi risponde e questo ti dà proprio una sensazione di posso cominciare ad andare perché se per caso mi trovo a un bivio e non so se andare a destra o a sinistra la risposta mi arriva subito compatibilmente non mi lascia cinque giorni sul cammino di Santiago di Fonte a due sentieri dicendo io vado a destra vado a sinistra poi c'ho i clienti che mi hanno chiesto informazioni sulla masterclass non so che cosa dirgli ti si blocca tutto e quindi one to one fatto come lo faccio io nel senso che io non ho un one to one otto clienti al giorno cinque giorni alla settimana a tappo per cui poi non c'ho più tempo per nessuno e per cui sì e poi mi piace talmente tanto quello che faccio che se io sono a prendere un aperitivo e mi arriva un messaggio per me è come se un'amica mi mandasse un messaggio e mi dicesse senti ma quella crema lì dove l'hai comprata e io rispondo e tu mi chiedi ma quella come la devo fare e io ti rispondo non è che penso oh mio Dio sto prendendo l'aperitivo la divisione le cose cioè è tutto molto fluido fluido ok allora senti non so c'è qualcosa che vuoi aggiungere o magari dirci se è cambiato diciamo forse un po' presto per dirlo ma se è cambiato qualcosa in concreto nelle cose che fai come le fai sai che le persone hanno anche bisogno un po' di concretezza sì bella la leggerezza è simpatica la De Meo però sì poi dobbiamo quagliare dobbiamo essere pragmatici e quagliare allora cosa è successo direi che dopo la nostra la nostra Halls io ho acquisito due nuove persone che mi seguono che seguono il percorso e quindi è stato veramente illuminante e questo mi ha fatto capire quanto il semplice che non vuol dire facile ripaghi tu eri ferma da un po' sì ero ferma da un po' avevo smesso di fare la lead da ottobre novembre per varie motivazioni non avevo più avuto tempo di curare tanto i social adesso mi ci sto riavvicinando con calma anche se ci sono ancora delle situazioni che devo sciogliere l'ultimo post l'ho scritto ieri sera giusto appunto dopo aver riguardato la nostra la nostra Halls perché lì mi sono venute in mente altri due o tre altri due o tre post appunto da scrivere e mi sono detto ma perché non lo faccio ora anziché domani mattina o nei prossimi giorni facciamolo ora mi va a mettere facciamolo adesso anche se sono le dieci di sera e così è stato quindi si ero ferma da un pochetto avevo perso un po' di motivazione mi dicevo ma cosa sto facendo fondamentalmente per chi per che cosa facevo la lead quasi tutti cioè tutti i giorni avevo fatto la lead per tanto tempo tutti i giorni e questi due signori o signore e signora sono arrivati tipo dopo un post sì hanno risposto a un post cioè un post che è scritto dopo che abbiamo fatto la Halls nel modo in cui ci siamo diciamo detti ma lui è assolutamente sì quindi assolutamente e quindi la semplicità paga sì la semplicità paga guarda io quando lavoravo in pubblicità ma racconto sempre sta storia lavoravo con una grande agenzia di pubblicità dove ovviamente i creativi ogni volta che c'era da fare una campagna stampa ma meglio uno spot in tv ovviamente dentro alla storia ci mettevano qualcosa di esotico che li potesse mandare a girare a Los Angeles ma è l'idea perché se no dobbiamo andare al super studio industria a Milano in un capannone dice se io ci metto due cammelli c'è caso che magari vado in Africa o in Asia ok ci sono i cammelli in Asia forse i dromedali non lo so scusate l'ignoranza anyhow c'era un e per spiegargli questi spot capito grandi presentazioni all'epoca non esisteva internet per cui facevano tutto a mano con l'illustratore chiamavamo l'illustratore da fuori lo pagavamo un sacco di soldi per fare tutte le vignette si chiamava animatic dello spot per fare capire come veniva lo spot e invece c'era un grandissimo pubblicitario di cui adesso non ricordo il nome è uno di quelli americani degli anni 60 che diceva che la tua idea se è un'idea se funziona devi poterla appuntare in una frase o appuntare in un disegno anche sul sul tovagliolino di un bar cioè non hai bisogno dell'illustratore megafigo dei fuochi d'artificio perché se l'idea è forte e sottotesto è semplice l'idea si spiega in tre parole la cosa si spiega in modo molto semplice non hai bisogno di orpelli sovrastrutture perché è molto molto semplice quello che tu fai e lo comunichi in maniera diretta con poco diciamo contorno ecco e quindi la sobrietà non è facile non è facile però è tanto più facile quanto più proprio pulito è il tuo vedere il tuo sentire cioè quando è proprio chiaro chiaro per te sarà sempre più chiaro perché più interagisci con i tuoi clienti o potenziali clienti e più affini no? quello che loro sentono temono vanno cercando Cucci sei stato bravo fino adesso stiamo a fare una restituzione ma sì ma lascialo lì è parte integrante e non taglio niente non taglio niente ma anche la parte della retina degli occhiali dei capelli oggi all in ok ma chi se ne frega senti ma ti faccio un'ultima domanda a chi consiglieresti di fare questo lavoro con te tutti tutti coloro che lavorano sul tutti i professionisti del cambiamento coach counselor psicologi psicoterapeuti sì sì assolutamente senti c'è qualcosa di tuo che vuoi aggiungere che può essere utile a te a me agli altri seguiteci seguiteci seguite la dottoressa a liberti che si occupa di ansiosi e ansia e che libera libera nos a malo libera nos a ansia e poi niente seguite me se invece avete voglia di essere liberati da le sovrastrutture assolutamente che vi coppano il cammino va bene allora niente noi diciamo che chiudiamo questa restituzione certo ci stai fermo lì chiudiamo questa restituzione e salutiamo ma guarda ci deve essere anche amore anche tu vuoi fare la restituzione qual era il blocco che ti impediva di mangiare tutti i crocchini però non chiudo la zoom perché ci facciamo due chiacchiere ok volentieri salutiamo ciao a tutti ciao